Abbiamo detto che saremo brevi e indolore. C'è la partita del 18, qualcuno vorrà vedere, qualcuno potrà stare qui con noi, insomma fate quello che vi pare perché nessuno va incollato alla sedia. Dovrebbe funzionare così. 34 anni di radio sono stati un'avventura e soprattutto sono stati per molti di noi, quasi tutti, un grande divertimento. Questa non sarà una presentazione del libro e basta. Si voleva vedere se si stava in allegria anche oggi. Qui abbiamo chi ha scritto il libro, che è Stefania Sandrolini, che deve fare dei ringraziamenti ma li fa anche di lei. Io vorrei ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha dato questa sala, questa splendida sala dove Rani insieme ha fatto delle feste memorabili, perché chi c'è stato lo sa, per i vent'anni, per i venticinquanni, per i vent'anni, poi anche le organizzative e abbiamo il vice sindaco, Alessandro Storai. Vuol dire qualcosa Alessandro? Io direi che il mio amore è questo evento.